PARA! I KING DAI GIO! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Lo faccio! Bomba? BOOM! No ragazzi! E sempre siamo noi qua! No ragazzi codice vero tutta la vita! Siamo tornati cavolo! E siamo finalmente tornati su Fortnite! Sono fierissimo di tornare dopo ben 6 mesi di assenza! Un mese tecnicamente non sembra! A me sono sembrati 6! Fatemi sapere qua nei commenti secondo voi quanti sono stati! Comunque riapriamo il negozio oggetti dopo un sacco di tempo perché da quello che ho visto sul sito della Epic è uscito John Cena ragazzi e io sai cosa ti dico! Io in questo momento ripeto a tutti! Codice ferro nel negozio oggetti! Quello non va mai in vacanza! Inseritelo! Accettate! E sai cosa ti dico io? Si scioppa fratello! Si scioppa subito così! Money 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 money! Ma quanto è figo! Io te lo dico è una figata incredibile! Fatemi sapere se anche a voi piace un sacco John Cena! Vabbè ma guarda pure quella cosa della WWE! No rega! Ve lo giuro è troppo troppo bello! Quindi anche per voi codice ferro nel negozio oggetti sempre per sempre! Corriamo in partita che voglio e devo stare come ai vecchi tempi! Non c'ha i capezzoli! Non c'ha i capezzoli! Eh si perché sennò io magari le bannano così sai! Bello ma sono bellissimi i capezzoli! Ci siamo zio siamo carichissimi! Guarda che figo il gioco dopo 6 minuti! Allora devo ammettere che pure io al di là di io ho tante fps che stiamo facendo in questo momento e dei 65 di film che stiamo vedendo! Comunque ragazzi non è cambiato assolutamente! Però è bello! Cioè ci credi che? C'è uno che è pompato con una roba incredibile quindi tutti i nemici ci avranno paura di... Cos'è sta cosa? Che cacchio! Ok! Ha secondo me tipo un pompa che se premi spara più forte! Non so è un'impressione mia che trovo così! Ok se forse sento una persona! Vai sotto! No ragazzi ho paura perché non gioco da tanto e non c'è neanche materiali! Mi sono scordato che qua ci sono i materiali! Ok fermi 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 fermi! Devo un attimo riprendersi la mano eh! Secondo me c'è una persona ma è un fantasma probabilmente! Eh sì perché dal tonne ci sono persone fantasmi! Ogni tanto flashi qualcosa a caso! Tu non so esattamente il motivo! Sicuramente adesso ci appare uno di tra porta che ci distrugge! Dai Best per favore! Non inventarti i cavolati! Dai andiamo a vedere che abbiamo capito che qua non c'è proprio nessuno! Fermi! E invece... Questa è una persona! E invece c'è qualcuno qua fratello! Zio 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 te lo dico eh! Non aprire la porta ora! Ok! Prima kill dopo 7 mila mesi vero? Eh sì eh sempre se non so io a essere killato! Spera sotto la scala forse! Sei serio? Non lo so dove l'ho visto! L'ho visto da qualche parte! Ho spara flashato! Lo sto sentendo sopra però! Vamos! Cioè c'è la propria! Pompamitraieta! Te ricordi come si gioca più o meno? Zio non mi ricordo nulla! Sei diventato una sega assurda su sto gioco! Tanto ma ma zio ma perché non riesco a vederlo! Se vuoi gioco io e sono ancora più forte di te se non mi ricordo nulla! Io mi ricordo una cosa che tu facevi non schifo ma di più! Ma zio ma sto qua non c'è! È sotto 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 eccolo! Prende la macchia zio! E di là di là di là! Sono sicuro che quello! Sì l'ho visto palese! Usciva! Ho avvildato! No se l'ho ucciso! Sì! Let's go! No zio ma sono ancora fortissimo! Dopo quanto tempo? No ragazzi fermi! Ok ok un attimo che mi devo tirare! No zio ma what? Siamo delle bestie! Siamo delle bestie! Siamo! È una bestia! Siamo un sacco! No no veramente siamo! A parte gli scherzi zio voglio provare questo nuovo pompa! Secondo me è tipo uno di quelli ricaricabili che tu premi e dopo spara! No purtroppo no perché l'ho già provato! Cioè l'ho già provato adesso! Prima abbiamo tirato un colpo e l'ho provato a ricaricare ma ha sparato subito! Comunque ci sta il tizio sopra di noi! Va fuori fratello! Fai una bella skype! No un altro! Che schermo! Allora io gli ho tirato! Eh sì gli ha fatto veramente poco! Però da lontano! Esatto ma mosca! Vai via l'idiota! Guarda che ci vuole sabotare la prima partita di porta! No ma figurati! Buona amitraghietta! 22! Ok fermo! No 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 zio! Aiuto! Ci sta un tizio pure sopra! Allora dobbiamo giocarci a con calma best perchè! 26 di maz! Scala muro pavimento non lo puoi fare se rimani nel box aspetta di morire! Io me ne sto qua fermo non mi muovo e non vado a nessuna parte! Oh porca vacca! Quella! Oh mio dio quante granatone ti hanno lasciato! Adesso non mi muovo veramente dal box! Ve lo giuro finchè non va via tutta la gente o finchè non arriva la safe! Signor best non fa nulla! John Cena non ha paura di nessuno! Bombas! Il set era molto bello! No 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 no! John Cena non ha paura di nessuno! In garage fratello veloce! Stavo scherzando! Attenzione di sopra il nemico! Oh no 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 è un pro player! Tu mi fa paura! No ma tranquillo non è un pro player! Questo l'ammazzi fratello e sono abbastanza sicuro! Questo sarà uno dei player più forti in tutto il mondo! Ma siccome noi siamo John Cena avrete lo siamo pompati come delle bestie! Guarda come sentito! Cioè è pompato! Ma sì ma non c'entra nulla non è che se sei forte è pompato boom uccidi tutti! E sei pompato quasi quanto me! No non è mai vero nella vita scusami non è mai vero nella vita! Comunque ciao persone scusatemi se non sono il classico ferro lo diventeremo di nuovo eh! Però fatemi scappare per favore tanta paura! No! Prendi un nemico davanti fratello di nuovo 26 buona! La mitraia lo distrugge! Ok! No! Porca di quella! Sì! Oh mio dio best! Ammazzato! Ricarica veloce che c'è una cosa avanti! Io ho ucciso perché hai detto best ammazzato? Ma tu ti sei oh ma sto giocando io! Un po' di un po' di grazia! Ti chiamavi best avevi 120 mili iscritti roterro con 200 mila? No è il contrario mi dispiace! Ah! Comunque zio solo per il content lascio questo fucile a pompa blu e prendo questo verde quello nuovo! Posso dire che fa davvero schifo hai fatto 7 prima! Sì ma non l'abbiamo ancora testato! Cioè allora voi nei commenti comunque veramente ragazzi che seguite ancora forte e che giocate ancora tanto! Fateci sapere qua sotto se è forte se non è forte un sacco di cose nuove che hanno aggiunto tolto messo cose varie! Sì nel frattempo attento che c'è il nemico di sopra però ricordati sempre di questo! Me lo ricordo il piccolo problema è che mi sa che è molto molto forte! Oddio oddio! Sì vabbè ma questo ragazzi no raga ma è forte veramente questo! Allora io non mi ricordavo che ci fossero così tanti pro player nel 2022 su Fortnite! No 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 vabbè! C'ha il pompa spammone! No 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 zio! Tento 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 oh mio dio! No no no! No John Cena ti prego! Tantarata! Tantarata! Siamo morti! Signor best un lama da quanto? No ragazzi comunque ve lo giuro! Io ve lo giuro! Ragazzi fate arrivare a questo video a un miliardo di like perché mi mancava troppo Fortnite! Guarda stami traietta vedelo come OP! No ve lo giuro raga! Ok ci mette due anni a caricarsi! Cosa è quello? E' un altro nemicio credo! No 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 fanno fuori veloce! No 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 ok! Prendi tutto? Prendo 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 zio! Allora devi stare attento di sopra ho visto uno molto agguerrito! L'ho visto pure io non sei l'unico! Sai cosa fare vero? Sì guarda zio! Spara! Il King Deci! Oh mio dio! Oh mio dio! E' tornato il King Deci! No 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 zio! Lo faccio! Bomba! Boom! No ragazzi! E' sempre siamo noi qua! Ragazzi i codici è vero tutta la vita! Siamo tornati cavolo! Fratello c'è una persona! No! Zio! Il King Deci e Kimi si deve far rispettare! Questa è tua fine! Ok! Devi sparare un colpo in testa! Chi che rimbalza addosso 3.000 volte! Ma che cavolo! Vai! Boom! 120! Ok! Ucciso pure! No no zio! Mamma mia mamma mia! Signori tre key così easy! Al volo! Fermo fermo fermo! C'è un'altra attenzione! 180! No vabbè raga io me ne vado ma per sempre! Si va tu! No zio siamo tornati su Fortnite! Signor best siamo tornati su Fortnite! Siamo tornati su Fortnite! Siamo anche il lupo nel dubbio perché siamo cattivi! Esatto! Siamo molto cattivi! Ah! No! Porca di quella! Protessici veloce! Ok! Di qua di là di su di tu! Ci siamo protetti il meglio che potessimo zio! Già che se giocassi io sarebbe tutta più facile la situazione! Giustamente devi giocare lui! Sì! Saresti già! Ma questo qua mi sta provando veramente! Sai cosa tico? Ci sta provando fratello! Io lo faccio così eh! E dopo fai la cecchinata assurda giusto? No e me ne vado via! Ciao zio mi devo andare a curare! Sei un codardo! No 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 non sono un codardo! Ok! Ci siamo refullati! Best! Volo! Volo di brutto perché! Io ti dico solo una cosa! Quello lì sta facendo il figo con solo col ferro sbagliato! Perché io sono tornato! Sono io quello ufficiale! E adesso guarda cosa gli faccio! Granatona! Dove sta? Dio c'ho un cecchino in mano! Si aspetta con calma però! Attenzione! Il cecchino da 52 metri! 52 metri fanno schifo però va bene! Ok allora forse negli edit sono un po' peggiorato eh! Ma forse sono solamente il ping! Si è praticamente il 60 di ping! Non è che lui che faceva schifo e a casa sua ne aveva 100! Cioè tu spiegami cos'è il cono gelato trangugio! E' un cono gelato che ti fa bollitare! E' figlio non mi ha dato nulla! Cioè totalmente nulla mi ha dato! Per me è quello l'era per la vita ma tu le gola hai consumato e l'hai sprecato incredibilmente! Ok poteva essere e quel tizio l'ha adesso poteva andarsela! E' niente! 18 attenzione! E' niente niente ci stanno altre persone pensiamo alle altre! Ma no guarda io se mi posso riposare in pace lo faccio anche... Oh! Cos'è quello Naruto? Mi posso riposare in pace! Cheat! Fermo! No! L'avevo preso in a... Porca di quella! Ho visto la morte in faccia! E' niente! No ho rifiutato! E' niente! Ma dai! Ok fermo fermo! 21 attenzione! Oh mio dio quello penso che abbia uno di vita a quanto pare! Perché il tizio gli stava sparando... Se lo becchierai ti do 100 euro ma lo devi proprio ammazzare del tutto e non sto scherzando! Vabbè troppo tardi mi spiace dirtelo troppo tardi! Gli vado conto con l'auto! Bomba! Ma anche lui ha un'auto! Muori! Rituriamoci! Muoviamoci! Sapete cosa vi dico? Vabababababababababababababababababababab Democrino è esplodo 50! Lilando per lui! Scusami brother! ень buona zunar! Eeeeehhhhhh! Corno muori anonimo 293! SAFE! C'è una Cattiveria addosso incredibile! Sta dando l'anima anche! Dopo sei mesi. Ihre言 et partiamo su forma di cattiveria! Ragazze arriva la safe. Da quanto non dicevamo questa frase zio. via fratello più veloci comunque zio c'è un altro davanti una formichina l'ho vista di qua è piccolino la formi piccolino una formica l'hai visto prego vero ragazzi già ma io me ne ho dato 1 metri dicio male pure con le cuffie comunque ragazzi è ufficialmente tornato il king dei cecchini più o mi prende pure in giro cioè non ho missato un colpo su 9 tipo e lui mi prende pure in giro non l'avrei missato gli dico solamente questo ma ragazzi e voi intanto iniziate a commentare qua sotto nei commenti se vorrete un'altra sfida noob contro pro su forn e tante altre cose da qualche parte l'ho avvistato l'ho sedito l'ho udito io l'ho udito ma io ti dico solamente una cosa torneremo a fare le sfide e tu non potrei più parlare vittoria da da nabbo vi mirando al cinghiale vero perché c'è una mira che in questo momento sta smirando più di non so ma vi prendi in giro ma guarda che sono forte sto prendendo in giro mi guardate questo sezione fermi ragazzi cioè io non ho parlato tipo 10 cecchinate mi sparano è quello che avevi visto da dietro e sei su forni sparano su stambul che non sparavano mica tanto che povera una 80 ammattato il billo 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 ne è morto di nuovo questo se l'avrei potuto pure piccolare se devo essere sincero e ma io di più potresti anche vicina perché mancano dodici persone è il momento la vinceremo ragazzi penso che abbiamo svegliato pure ref e poi a parte di pure lui urli vi si sentiva anche dall'altra parte della casa che ora sono scusate ma nulla di che smettete di urlare per la domanda è perché c'è john cena e ragazzi e vi giuro che ho una voglia assurda di giocare a forne e appunto la stiamo in questo momento è successo qualcosa di strano su forn e taggia 9 kill e questa è una cosa che è ufficialmente tornato al king dei cecchini ti dico solamente che tipo 6 o 7 lo fate solo col cecchino e adesso ne faccio una davanti pure a voi perché vi devo dimostrare che è ufficialmente tornato lui prendere fratello un'altra cecchina e adesso muore eccolo si king dei cecchini comunque ho capito perché ha fatto 9 kg si sono tutti dei bambini adesso ma cosa pensi di fare guarda che se facciamo uno più noti di vasto ancora a brutto nabbo è uno di la e tony stark mega guerrito potrebbe schioccarle dita e parti ammazzare in un secondo e digli di farlo ok fermi tony stark mi voleva pusciare adesso la buccia e lagga lagga perché questo avrei preso basta soppiare negli occhi c'è 49 di king non inventarti scusi per favore ferro io spero che muoia da vero tranquilli voi sperate sperate pure tanto il king comunque qua di porta e rimango io fermi ragazzi c'è un tizio che mi voleva fare il giro non scopo 10 euro per uno scopo non ce l'ho fatta nel senso che non non scopo capito non lo prende buona questo è il ping questo è palesemente il ping e quindi ragazzi potrebbe essere un ufficiale ritorno della gang mitica che potrebbe portare ancora provine e molte altre cose e tutto questo merito di john cena esatto john cena a parte gli scherzi mi raccomando like iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto che abbiamo raggiunto i 200 mila da poco e ovviamente codice ferro nel negozio oggetti per supportarmi al massimo noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ciao